e se funziona se funziona che avevo fatto la prova ho visto sul libro vecchio molto vecchio di 30 anni fa che ci sono dei modi di dire che non conosco quindi me li scrivo giusto per tanto così ripasso in più ho visto che ci sono un sacco di parole che non conosco sono parole che non si usano più in giappone ma dubito o sono io che non le so nell'altro libro non me le ha mai spiegate o me le ha spiegate e non me le ricordo quindi va bene che faccio sta cosa qui allora il test non l'ho fatto niente buongiorno massi ho trovato delle cose strane e le fare ce le faremo ho trovato dei modi di dire sul libro dei modi di dire sul libro a parte che sento la mia voce doppia a parte che sento la mia voce doppia a parte che sento qualcosa di acceso che deve essere spento telecamera cl ecco confermo eh la telecamera ora ora pranto pranto no si sente lo stesso ecco pranto ancora ok adesso dovrebbe essere a posto eh praticamente ho trovato dei modi di dire che boh non li conosco sono dei modi di dire che non ho mai sentito quindi boh me li studio e intanto ripasso che ho visto che qua ci sono un sacco di parole che non conosco lo stesso n2 però ci sono un sacco di parole che non ho mai visto o non me le ricordo o non le ho mai viste comunque esercizio per intanto qua non c'è scritto niente in in furigana c'è scritto solo il coda e basta allora vediamo modo di dire modo lo scrivo qua perché l'ho scritto sotto modo di dire dimmi poi se riconosci ho mai sentito sta roba tacane tacane no ana che già non si scrive così tacane no ana che è così tacane no ana che significa delle radici alte o o un fiore cioè sarebbe irraggiungibile una cosa del genere e si e allora ve lo scrivo in giapponese o ishi che nel senso lo vorresti che credo ma teni ai renei ma non puoi averlo lo vuoi ma non puoi averlo koto ga dekinari lo vorresti ma non lo puoi avere toku lo puoi vedere solo da lontano tokukara miteiro dake nomono buongiorno praticamente sarebbe la spiegazione chi è sogno sto facendo i modi di dire ho visto che sono un sacco di parole che non conosco quindi mi faccio sti modi di dire così boh vediamo buongiorno sogno del cacciatore tipo questa parola non la conoscevo cancomono o perché non boh che significa pubblicazione allora oggi non finisci più a no no faccio i cioè vado avanti due ore mi segno tutte le parole sì ci metterò un po' di più in più questo libro qua ho trovato che ci sono un sacco di parole che non uso mai allora poi c'è l'esempio questa è la spiegazione ve lo scrivo sotto una cosa che vorresti ma non puoi avere la puoi solo vedere da lontano c'è una cosa irraggiungibile sarebbe e l'esempio è tokyo è tokyo questo qua è il bello che non ci sono scritti poi ho provato a fare qualche esercizio e li sbaglio tutti quindi devo ripassare anche tutta la grammatica non mi ricordo più niente sto facendo confusione o sono stronzo che è la stessa cosa tokyo tonai no icco icco date ecco ho scritto occo icco date no c'è la testa di Fujiko davanti no ienante ienante no ienante in questo libro non hai come si chiama non ha il firigana e quindi mi esercito di più takkane per riconoscere i kanji no ana takkane no yume yume no yume yume no naka no yume yume no yume da ok questo è l'esempio che significa Tokyo tonai no icco date no ienante takkane no ana yume no yume da allora avere ci sarebbe possedere avere un appartamento in in centro Tokyo è un sogno dentro il sogno è un sogno del sogno boh il significato è quello lì io non l'ho mai sentita sta roba qua almeno forse perché il libro è vecchio e dice i modi vecchi però ma come ha detto che esistono questi modi qua io non li cioè non li usa lei però esistono la cerca perché questo è grammatica ogni tanto ti mette sotto i coli qua c'è un altro Senkini no Senza Bambetsu mai usato in vita mia non so neanche i kanji no quello di XD si usa si usa mai sentito Sen Senza no Senza si Senza ma non mi esce neanche Senza Bambetsu io non l'ho mai sentita questo qua anche questo ho mai sentito in vita mia Senza Bambetsu ok beh li facciamo tutti tanto non cacchio da fare così ce li ho Senza Bambetsu lo dico sempre quando vado al ristorante mi dia un Senza Bambetsu Min Min Chigao Koto tutti diverso cosa cosa significa tutti diverso Min Chigao Koto tutte cose ma cosa scrive vabbè tutti i kanji sono usciti Min Chigao Koto tutte cose diverse significa tutte tutta cosa diversa o tutte cose diverse diverse che sarebbe il significato onaji 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 tokyo yondemo ito nio te kanji katawa allora ok ci sono anche se lo leggiamo tutti anche se tutti lo leggiamo ogni persona lo il modo di sentirlo è diverso è diverso per tutte le persone non ho mai usato ah che bello onaji scritto così onaji ancora basta scrivere il kanji onaji to onaji tokyo anche se leggiamo nello stesso momento yondemo almeno che non ho sbagliato a leggere il kanji no ah no questo è non è yonde yon aspetta un secondo ah si è yonde perché non usciva boh non ho capito perché non usciva yonde mo ito ni o sto sbagliando ito ni yonde ito ni o te scusate kanji kata il modo di percepirlo è questa parola qua sen sen sam ba bam ben mai sentito lo sentiamo in modo diverso anche se leggiamo nello stesso momento leggiamo la stessa cosa ogni persona la capisce cioè la percepisce in modo diverso facile easy poi andiamo a cercarne un altro per fortuna mette i fiorelloni così kugiyo sasu kugiyo sasu stenae kedo e questo tipo non lo so o o o scoto questo qua è quello di zanen però da solo non so come si pronuncia vabbè adesso lo cerco allora kugiyo sasu sarebbe ti infilzo un chiodo nel sedere shi nae ste ste wa ike nae una cosa che non devi fare ste wa ike nae to però scrivo zanen perché non so come si scrive solo poi me lo vado a cercare e questo qua zanen lo so ma l'altra pronuncia non la so che lo vado a cercare però lo so scrivere non so come come si pronuncia da solo però lo so scrivere nen ah no si pronuncia nello stesso anche da solo senso idea attenzione desiderio si vede un sacco di roba sen no nen scusate quello di zanen quindi nen nen o osu koto osu koto allora ste wa ike nae nene è una cosa che non si deve fare ma spingi cosa ma spingi in che senso spingi vabbè leggiamo l'esempio ok kuki kuki kugi scusate kugi o sasso che sarebbe ti infilzo un chiodo su per il sedere una cosa che non si può fare una cosa che non devi fare ma spingi per farla adesso poi cerchè vediamola farla allora tsuma wa shain ryokoniku ottoni la moglie il marito che sta per andare in viaggio di lavoro tsuma cioè viaggio aziendale tsuma shain shain ryoko shain ryoko niku otto 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 ottoni e qua gli dice la frase itzumo o itzumo che è sempre itzumo mitaini come solito vai in giro con le e io parai infatti lo sapevo vai in giro con le braghe calate perché sei ubriaco io parate bak bakana koto bakana koto wo surun janai non fare l'ubriacone fare cose stupide janai noio niente gli sta solo rompendo i maroni to kogyo sasta che cazzo si chiama non è così non ha quel senso lì to kogyo sa si ta che cazzo significa questa roba adesso lo cerco sul quadro non uscirà mai però va cercarla ma non mi uscirà mai lo so sul dizionario non ve ne esce devo cercarla come un'altra roba cioè praticamente gli ha detto è la moglie che dice al marito che va in viaggio di aziendale quello dei dei dipendenti come solito non non ubriacarti e e non fare cose stupide to kogyo sasta che sarebbe fai attenzione a non fare a non fare qualcosa ok ricordare ricordare di non fare cose che non devi fare cose ok ci siamo allora questo qua è kogyo sasso io ho mai sentito cioè nel senso mai usato pianto pianto io ho sasta ok poi abbiamo okabu o ubau questo non lo so neanche cos'è okabu è azioni paru hito ni tokuina koto wo sotokara haitamono wo moto josunisuru un'altra persona che riesce a fare le cose meglio di come le sai fare tu okabu ubau ubau è rubare kabu è quello di azioni okabu vediamo okabu okabu lo sapevo con la v davanti no ukabu ukabu adesso non mi esce più okabu scusate okabu okabu o ubau okabu 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 rikishi no questo non lo so vabbè lo so scrivere bloga medatsu nionno sumo nonsukari ok una persona a parte che devo scrivere vabbè lo scrivo in giapponese haruhito che poi è la spiegazione non so perché la sto scrivendo in giapponese però vabbè esercizio tukui che è bravo tukui nakotowo la persona è bravo a fare una cosa per cui nakotowo sotokara sotokara haita la persona che entra da fuori haita monò monò che sarebbe la persona non è quale inteso monoma è una persona monoma è una persona motto la famiglia ga motto joso joso ma l'altro fa meglio joso nissu allora uno è bravo a fare una cosa allora uno è oh mio dio non so più scrivere in italiano è bravo a fare una cosa ma un esterno la fa meglio ok ciao Moeville gaikoku jin gaikoku jin rikishi dovrebbe essere il lottatore di sumo no questo qua è seikatsu ma non mi viene in mente come si chiama seikatsu cioè come si pronuncia insieme a iobi vabbè scrivo iobi adesso faccio un mix e poi questo lo vado me lo assegno comunque non me lo ricordo come si legge lo so scrivere ma non so come si legge perché sono avanti però lo so scrivere allora vita judo artista azione non è come si pronuncia non esce neanche non esce neanche perché non non esce non mi esce la parola intera non è katsudo no è katsuyo katsuyo eh ma non mi esce si ogisce o non esce a meno che non sono stronzo o l'ho scritto sbagliato ah no me l'ho scritto sbagliato aspetta ho scritto sbagliato non è questo io ho scritto si pronuncia uguale ma non è ho scritto il canje sbagliato è per quello che non esce non mi esce non mi esci perché cazzo non mi esce vabbè scrivo non mi esce lo yo katsuyo e ci siamo io anche lo sapevo pronunciare però non pensavo che si pronunciasse così però non mi esce il canje solitario un figa lo troverò mai non è questo ho mille ce ne sono di ho è tipo questo tata tantantant tant tant tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan Ma non c'è cos'è che posso scrivere non mi esci aspetta lo fotografo vediamo se mi esce il canje intero così mi rimane anche se non me lo zooma zooma me lo allora e qua me lo e me lo legge sbagliato anche il libro c'è il libro non me lo legge perché c'è davanti un simbolo diverso non è quello di cazzo io normale cioè non è quello io di yobi è un altro ma non mi esce il kanji cioè la parte questa qua di yobi è uguale cioè di yo infatti non è yobi è qualcosa però al posto di nici è un altro simbolo che non riesco a non mi esce puoi ingrandire il libro eh puoi ingrandire il libro è un parolone anche il lettore aspetta un secondo che te lo ingrandiscio vediamo se riesco a zoomartelo più che altro allora la frase è gaeko kugino rikishino katsu ga katsu do katsu do magari scusa ma sono scemo è katsu do aspetta aspetta un secondo dovrebbe essere katsu do katsu do katsu do aspetta che adesso mi si chiude il libro katsu do no non è neanche katsu do katsu yaku katsu yaku katsu yaku ok ce l'ho fatto katsu yaku ce l'abbiamo fatta lo sapevo è che sono rincoglionito scusate cioè nel senso va bene me lo segno che sono rincoglionito allora adesso abbiamo il problema che sto libro si ribalta però fujiko non sia abbastanza pesante adesso prendo doraemon hai capito allora dove cacchio eh ho un po' perso il foglio allora katsu yaku ok infatti l'altro era yo l'avevo letto come yo che è quello di yobi ma era sbagliato perché eh cioè gli ho smixati perché questo qua davanti sta roba infatti dopo non mi usciva sul dizionario e ho detto è strano che non esce la parola sul dizionario comunque me lo segno ehm katsu yaku però ci sono arrivato senza il dizionario alla fine a furia di prova che riprova ga medatsu medatsu a tirare l'attenzione medatsu eh punto nion no sumo no sumo eh qua esce così ma io non ce l'ho al kanji sumo esiste il kanji sì è questo qua no boh non lo so non c'è non lo scrivo sumo eh 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 ka gaiko kujin gaiko kujin era giusto eh lo so però non c'è quindi per sicurezza non lo scrivo gaiko kujin ni sukkari o sukkari sukkari eh o eh kabu ecco è la frase famosa o kabu o uba 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 praticamente ti rubano il posto di lavoro uba 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 cioè gli ruba la scena rubare la scena qualcuno sarebbe allora e comunque questo qua o kabu o uba uba questo qua è kabu ma aspetta è quello lì di azioni o un altro kabu aspetta può iniziare a dare i numeri aiuto ho aperto line per sbaglio reputazione significa rubare la reputazione questo è proprio rubare la reputazione rubare reputazione questo è infilare il chiodo questo qua non lo so invece cosa cacchio significa senza proviamo a cercarlo a pezzi senza bambezzu cioè almeno avere il significato letterario infinità di varietà estremamente vario estremamente vario estremamente vario poi abbiamo questo qua questo non mi usciva quando l'ho cercato significa una cosa preziosa mi mette una cosa di alto livello mi usciva che però letteralmente è un fiore con le radici lunghe o alte comunque il significato è quello lì l'abbiamo fatta a parte che poi dovrò anche scriverli non solo andiamo avanti ne scrivo un po e poi c'è lì questi sono da leggere bla 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 qua ne abbiamo un altro funi funi o cinai mai sentito una cosa che non capisci cioè che non riesci a comprendere o a capire funi o cinai mai usato in vita mia però non so se questo fu è questo qua è scritto senza lo scrivo senza funi o cinai vediamo cosa significa coppia vediamo cosa significa vediamo se esce funi o cinai negativo no niente no non esce questa roba qua prova a scriverlo col canji che hai ce ne sono una marea funi o cinai magari se lo scrivo intero esce che not understand che not understand dice poi non ha senso funi o cinai non funi o cinai non avere senso ok ve lo scrivo vi scrivo sotto anche la traduzione più che altro c'è la spiegazione in giapponese perché serve a me come come allenamento natoku è essere d'accordo dekinai non riesco a essere d'accordo o non capisco wakaranai robotto cioè questa è la spiegazione non è l'esempio invece questo sotto l'esempio konohanashi questo discorso moe se fammi sapere se hai difficoltà o robe varie a capire quello che ho fatto te lo spiego c'è il libro c'è il file che ti manda da appunto doko ka funi o cinai o cinai toccoro garu toccoro garu allora questo discorso mi sembra strano da qualche parte non riesco a comprendere in qualche punto non riesco a comprendere funi o cinai sono tutte cose che non ho mai usato mai queste parole qua boh o le uso e non ci ho mai fatto caso probabile anche la seconda funi o cinai vi traduco anche sta roba perché se non ha senso inserisci però vabbè ormai ho iniziato in un modo non so non sei d'accordo non so non sei d'accordo non capisco non capisco ok poi ne facciamo quanti ne ho fatto uno due tre quattro cinque allora facciamo un altro tutto chiaro grazie tutto chiaro ok stop in caso hai problemi fammelo sapere e soprattutto se trovi errore dimmelo perché ogni tanto rileggo e trovo degli errori e li correggo però ok qua ne abbiamo trovato un altro siamo già pagina 63 se vado avanti così lo finiamo subito allora Pinkara Kirimade sì ma devo ancora leggerlo tutto eh beh quello è sicuro che devi correggere la tua mano no ti dico se trovi errori dimmelo non farti problemi più che altro mi aiuti anche a correggere quindi io praticamente lo studiavo anche quando ero in ospedale in come si chiama e sul telefonino ce l'avevo infatti mi prendevano per pazzo Pinkara Kirimade Pinkara Kirimade Pinkara Kirimade Pinkara Kirimade questo mi sembra che io l'ho sentito Ichiban imono kara Ichiban waru imono made della cosa migliore alla cosa peggiore Ichiban Ichiban daijina monogam Ichiban toku emitu no miru yo niente canzoni vecchie degli anni 80 scusate ogni tanto mi escono fuori quasi quasi tra qualche giorno mi metto a tradurre le canzoni dei cantoni animati giusto per passare il tempo intanto fino a che non torna mia moglie non posso studiare Mono ah no a parte che devo ripassare le come si chiama la grammatica e qualche kanji perché ho visto che tipo facevo gli esercizi su questo libro qua che è del 1982 e vedevo che li sbagliavo le robe quindi c'è certe cose le sbaglio quindi una rinfrescata tanto studiato ho studiato però devo ripassare perché faccio i miei mix il problema è che ho imparato a parlare giapponese a modo mio e quindi per me delle cose sono giuste perché le ho sempre dette così ma non lo sono allora pin kana kirimade ichiban imono kana ichiban waru imono made dalla cosa dalla cosa dalla cosa migliore a quella peggiore questo per forza il significato è solo questo qua non c'è nessun kanji quindi rimane così l'esempio è camera toittemo camera che sembra camera da letto invece la macchina fotografica camera toittemo tsukai 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 ste usa e getta no yasui questo è usa e getta yasui camera ormai non si usano più ormai si usano i telefonini questo libro è vecchio e quindi gli esempi magari sono del 1800 cara è del anzi sono del del 93 questo libro o del 2000 no questo qua è forse del 2000 è la ristampa del 2000 mi sembra questo è vecchio non fate caso magari che scrivo parole vecchie perché il suo libro è vecchio è vecchio come me è del 2000 21 anni fa sto studiando il giapponese di 21 anni fa siamo a posto sei qua rimanga qui lei sei del 2000 no no magari fossi del 2000 no no molto prima allora cara eh se lo del 2000 ero contento invece no eh allora camera toitemo camera cara mi son perso questo qua è shoku shoku gyoyo shoku gyoyo mamma mia tira fuori delle parole incredibili che non sapevo neanche questo è ta eh takai takai kaku come si dice takai kaku takakaku 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 si usa no tak takaku takaku come si dice takakakaku aspetta secondo kakaku questo è il kennedy quindi è k takakaku takaku non si dice non esiste takaku va bene lo scrivo takai kakaku e poi lo cerco sarebbe prezzo alto quando faccio confusione il problema è che continuano ad andare avanti sbagliato e non me ne rendo conto invece se scrivo me ne accorgo quindi per quello che sto scrivendo ma è rimasto allora camera camera per la di telecamera abbiamo da quella usegetta che è la più economica fino a quella più costosa che si usa ma vedete quella professionale quella che questa sarebbe si usa sull'ambito lavorativo però dalla migliore alla peggiore cioè da quella più alta quella più alta a quella più alta un ga non c'è qua no pi ma de e e a rimas ga non esiste non so na 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 pinkara giri ma de eccolo qua tak beka ki scrivo questo sotto che biriodo o tsu cos'è? no biriodo biriodo o tsu imamade tsuketakoto o oeru una cosa che stai continuando fino ad ora è finita finire una cosa che è continuata fino adesso biriodo o uzzu dovrebbe essere se non lo sveglio biriodo o uzzu sì e come notate non so se si aiuto questo libro qua non c'è neanche non c'è niente scritto in furigana io preferisco i libri così comunque che non c'è scritto niente quello che ho scritto furigana inglese di fianco non mi piace mi serve qualcosa di più pesante che cacchio uso cosa posso usare di più pesante la mia testa tora uso il telefono niente lei scivola ti mettiamo qualcosa ok allora periodo o uzzu qua è solo uzzu vi scrivo di fianco al giusto per sport i mamma di fino ad ora i mamma di suzuki ta suzuki ta cotto una cosa che hai fatto fino adesso o ero che significa che l'hai finita finire una cosa che continuava a finire una cosa che continuava che facevi fino ad adesso continuava io ve lo scrivo più o meno in come scritto continuava fino ad ora periodo periodo o uzzu bo chichi wa kotoshi questo dovrebbe essere tenen tai shoku stefiga una cosa più lunga cici va bene tutto cici cici è mio papà cici cici oh pai boing 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 moge 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 cici oh moge moge kotoshi cici una cosa semplice te 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 inen che significa questo lo so quando finisci di lavorare com'è che si dice tai shoku è andato via dal lavoro perché è vecchio che si dice pensione Tegenste tai shoku ate teme jokatta è contento adesso va a fare il contadino come lo andano altro questo è jokatta non nagakatta non è nagakatta zee nadakata sarai bian sarai bian neanche intano io non conosco cosa io nient'avevo Sarariman Seikatsu 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 Basta, sei impazzito. Sto dando troppi kanji oggi. Ma che kanji dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici e voglio solo nemici. Allora Nagakatta, Sarariman Seikatsu, periodo O-Utta. Mio papà si è dimesso per quest'anno, cioè si è dimesso. Ha finito di lavorare perché entra in pensione e ha messo al chiodo, sarebbe mettere al chiodo la lunga vita da Sarariman. Mettere al chiodo. Com'è che si dice quello lì, quello che fanno i pugili? Che mettono i guantoni al chiodo? Mettere al chiodo. Mettere al chiodo. Che non c'è nessun chiodo però il significato è quello. No, qua c'è picchiare il periodo però. Appendere i guantoni al chiodo. Esatto, appendere al chiodo. Il senso è quello lì. Appendere al chiodo. Poi abbiamo periodo. Periodo, periodo. Che è stranissimo, periodo. Periodo è periodo. Oh me lo sono inventato io. Io odio le parole in katakana perché non capisco le parole straniere. Periodo, dotto. Periodo, sì è giusto. Allora, poi andiamo a cercarne un altro. Poi dopo inizio a scrivere perché non ne ho scritto uno. Poi dopo facciamo la ricerca a vedere se li ho scritti tutti. Sono già pagina il 67. Mai sentito periodo è? Che non c'è? Mai sentito periodo. Eh però è periodo. Ah ieri poi c'è stata una parte divertente. Non so se ci sei ancora. Ieri c'era scritto così. C'era scritto così, no? E io al posto di leggere Bisa ho letto Ho letto pizza. E infatti dicevo sempre ma questo qua va in Brasile per mangiare la pizza? Ero incoglionito. Invece no? Diceva per andare in Brasile la prima cosa che faccio per andare in Brasile è che devo richiedere una pizza. Io dicevo che è strano, deve chiedere una pizza. E invece questa qua è Bisa che è il permesso di soggiorno. Ma perché non ci ho fatto cazzo? Infatti ridevo con gli altri. Ridevo con gli altri e dicevo ma cacchio figa è questo qua è cretino. Va in Brasile a mangiare la pizza. E' proprio rincoglionito. Poi l'ho letto a mia moglie e mi fa ma no ma guarda che non hai pizza. Sarà Bisa. Poi ho riguardato e ho detto cazzo è Bisa e non pizza. Ma è colpa loro perché se loro scrivessero pizza così tutti questi cazzo di problemi non ci sarebbero. Invece no, devono scrivere pizza con una Z sola. Da qual mondo si scrive pizza così? Cioè per me quello che ha scritto pizza ha sbagliato. Perché era doppio ZU. Eh figa. Perché loro scrivono come sentono la pronuncia. E l'ha sentita di merda. Cioè il primo che l'ha scritta l'ha sentita male. La differenza è che è americana metì. Eh pizza è... Eh ma pizza è... Ah pizza è presa dall'americano e non dall'italiano ok. Però vabbè sono rincoglioniti lo stesso. Esatto. Allora abbiamo SUNDE, SUNDE NO TOKORO DE, MO SUKOSHI, AYA, AYAUKU, AYAUKU non so cosa significa. SUNDE NO TOKORO DE, no? Perché non me lo metti i canji? Mo scrive tutto in iragana. SUNDE NO TOKORO DE, TOKORO DE, MO SUKOSHI, ancora un pochito, MO SUKOSHI, AYA, AYAUKU, AYAUKU non so. Lo cerco. AYAUKU, ma non lo so. Io quando vedo le cose poi tutte scritte in iragana mi sconfondo perché ormai sono abituato più o meno. AYAUKU. Che cazzo è AYAUKU? Che verbo è? A malapena? Ancora un po' a malapena? Cosa significa? AYAUKU cosa significa? A me non esce. AYAUKU. AYAUKU è almost, più o meno, vicino. Boh, vabbè. AYAUKU è... Eh, sì, sì, il kanji ce l'ho davanti, è quello di KIKEN, però non riesco a capire il significato. Per un po' era pericoloso, vabbè, guardo la frase così lo capisco. No, è che volevo tradurla, ma non riesco a tradurla. AYAUKU, AYAUKU, AYAUKU. AYAUKU, 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 AYAUKU. Io uso sempre Giri Giri. SHOTOTSU SURU, SHOTOTSU è incidonte, cioè sbattere con la macchina. TOKORO DATA, stavo per fare un incidonte, TOKORO DATA, ma non l'ha fatto. Ah, stavo quasi per... Stavo quasi per... Ancora per poco... L'ho scampata. Una cosa del genere. SCAMPIGNATA, SCAMPATA. SUN DE TOKORO DATA, questo qua SHOTOTSU è sbattere con la macchina. Più simile a... KAROGITE, mai usato KAROGITE. Perché quello è il mio problema, che io poi usando sempre le stesse frasi, ho imparato il mio giapponese, per quello dovevo imparare quello corretto, diciamo. ABUNAKATTA, che è stato pericoloso. ABUNAKATTA... Per quello sto studiando, praticamente ABUNAKATTA. LO SI FA O L'N1 PERÒ? Ah, infatti non l'ho fatto allora. ABUNAKATTA, ABUNA... Infatti l'N1 appena mia moglie arriva. E poi comunque AYAOKU, lo scriviamo AYA... AYAOKU è sempre... Il kanji è lo stesso. Si ripete. Lo metto qua. Inzi, facciamo così. Taglia, lo metto qui. Cioè, questo non lo conoscevo proprio, che si pronunciava anche AYAOKU. Io l'ho sempre usato come KIKEN. È quello di KIKEN, no? E ABUNAI. KIKEN. E ABUNAI. Questi due li so. Ma, cioè, AYAOKU non sapevo che era questo qua. Cioè, nel senso... Non l'ho collegato. Cioè, comunque, adesso lo sappiamo. Me lo evidenzio anche. L'altra parola che mi dovevo indivinire... Eh, perché prima... Questo qua. Kazuyako che ci ho messo un'ora. Che, vabbè, me lo segno. Giusto per sport. Allora. Comunque, qua dice... SUNDE TOKORODE. SHOTOZO SURUTO TOKORODATA. Stavo per fare un incidente. È stato... Che rischio. È stato pericoloso. ABUNAKAT. Poi, io... Però non l'ho sottolineato. SUNDE TOKORODE. SUNDE TOKORODE. Perché qua è rosso? Ah, no, è attaccato. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove... Vabbè, abbiamo fatto... No. Otto. Ne faccio dieci e poi li scrivo. Più che altro perché è scomodo con il... Un libro così piccolo scrivere. Devo toglierlo proprio il libro. Allora. Ichiban, daigina, monogam. Niente, qua non c'è più niente. Allora riguardo ancora... Non che non c'è più niente. Praticamente stavo sfogliando questo libro qua che ci sono gli esercizi, esplicazioni, eccetera, eccetera. E a parte che vedevo che molti li cannavo, infatti dovrò ristudiarlo ancora. Riparto dal 3 a fare gli esercizi. Dove vedo che sbaglio mi rileggo le regole. E ho visto che c'erano sti cosi qua. Kiriganai. Kiriganai me lo ricordo. Che non riesco a finirlo. Kiriganai, sì, Kiriganai lo uso anch'io. Kiriganai. Che non... No, Kiriganai. Questo non è Kiriganai. Io uso Kiriganai. Questo qua è Kirigai. Ah, il lavoro va... Va bene. Invece Kiriganai va di muerda. Kiri... Ga... Kirigai? Perché non mi esce? Non mi esce? Non mi esce. Non mi esce. Non mi esce. Non mi esce il kanji. Perché non mi esce il kanji? Perché non mi esce il kanji? Kirigai... Non mi esce. Perché non mi esce? Sì, scrivo solo Kiri. Non esce lo stesso. Ce non mi esce? E questo è un altro. Secondo secondo. Beh, riscrivo Kirigai, ma poi devo vedere quella roba del Kirigai. Ah, quella sotto è un'altra roba, ok. Kirigai. Che non lo so leggere. Cioè, che... Aiuto. Minchia, che casino adesso. Bene. Serve un sasso. Datemi un sasso. Delle caramelle, osirmo. Uff, stai giù. Non sta giù. Ce la farò mai a fare la foto di sta roba. Allora. Poi col telefono, con la patella, perché sono vecchio. L'avevo usato per tenerlo in piedi, ma non sta mai in piedi. Niente, non me l'ha... Tutto sfocato. Scusate, mi stanno trapanando la stanza vicino, anche con volume al max. Sento il terremoto, la mia concentrazione. Vai, vai, prendi, torami, ao x, tenere il libro. Vai tranquillo e ricordati che stasera c'è la lezione. Studiate perché vi picchio. Io sono gentile solo con me stesso. Allora. Dai, fammi la foto, ti prego. Allora. Traduzione, separatore. Separazione. Cugiri. Cugiri, ecco. Cugiri. Sì, X fortuna, stasera non trapanano. Mi son fatto il foglio nome NUXD. Bravo. Questo qua, il libro, non vuole stare aperto. Cugiri. Cugiri. Cugiri, che non so neanche cosa significa. Cugiri. Gai. Cugiri. Gai. Ecco perché non mi usciva. Cugiri. Questo me lo segno. Cugiri. Copia. Cugiri. Fine. Pausa. Ah, pausa. Fare una pausa. Fare una pausa. Mi mette. Cugiri. 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 Allora. Shigoto. Shigoto. No. Kirigai. Ma Kirigai per me era... Siamo a buon punto. Cioè, sono a buon punto col lavoro. Kiriganai è che non riesco a finirlo. Tipo, Kirigai è che siamo a buon punto. Siamo a buon punto col lavoro. Beviamoci una bella tazzarella di tè. Esatto. L'abbiamo fatto. Kirigai. Metto essere a buon punto. Se è diverso ditemelo. Per me è essere a buon punto? Cioè, io l'ho sempre usato. Kiriganai è quando non ce la fai. Cioè, tipo, non riesci ad arrivare al punto, arrivare alla fine. Kirigai. Buon punto, sì. E si è proprio scritto buon punto. Good place. Quindi va bene. Quanto era? Non mi ricordo più. Me ne manca uno e poi li scrivo. Giuro che dopo li scrivo. Eccolo qua. Anaga Atara Airi Tai. Questo non lo so. È quando ti vuoi nascondere dalla vergogna. Questo è l'unico che... Che so. Se ci fosse un buco, mi ci infilerei. Niente. Qua sono le cose più pesanti. Veramente adesso prendo Tora. Anzi, il panettone... Il panettone dell'S lunga magari... No, non aiuta. Il panettone dell'S... Niente, quello scivola tutto. Non sta aperto. Allora. Anaga Atara. Se ci fosse un buco... Anaga Atara. No, questo è se ci fosse un fiore. Anaga Atara. Qua l'hanno segnato. Shigotono, Shigotono, Kirigai. Ok. Non me lo segno. Qua devo segnare Kugiri. UGHIRI. 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 No, no, non mi sono scritto. Mi vorrei nascondere. Mi vergogno tantissimo. Mi vergogno tantissimo. Vorrei, vorrei nascondermi da quanto mi vergogno. Azukashi, 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 karam. Allora, vorrei nascondere... Sarebbe il nostro vorrei nascondermi dalla vergogna. E quella del buco mi sa frase doppio senso altro che descrizione di quello che fa lo struzzo. No, non c'è nessun doppio senso. Se ci fosse un buco, se ci fosse un buco, o una buca, sarebbe qua un buco, però va. Vorrei, vorrei entrarci, entrarci. Ok. Facile, no? Comunque qua la parte giusta è questa qua più che quella sotto. Vorrei nascondermi dalla vergogna. Metti buco, ti piace di più buco? Eh, ma qua è buco, eh, però. Io vorrei entrare nel buco. Allora, spicci, o e te, seikini, modorotoki. Qua ho finito di parlare, stavo tornando alla sedia e mi si sono strappati i pantaloni. Forse l'ultima parte me la sono inventata. Su picci, o e te, finito di parlare, seiki, seiki è catarro, no, è sedia, ni, modoru, modoru è tornare. Doppio senso, io ne vedo uno solo. Eh, ma è perché tu guardi un senso solo, toki, koronde shimata, koronde è cadere, koronde shimata, sono caduto come una pera. Daruma ga koronda, koronde shimata, sono caduto come una pera. Anaga attara, ana, ana, non è con l'ac, io lo scrivo sempre, anaga attara, airitai, perché non ci voglio scriverlo tutto, airitaku, airitai kurai, 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 azukashi, azukashikata. Ora, mi sono vergognato come una lepre, da volermi infilare in un buco. Ok, anaga attara, airitai, kurai, io avrei detto gurai, perché kurai, però, cioè parlando io dico sicuramente gurai. Ok, forse ci siamo, uno, due, tre, magari è meglio se li numero, perché ogni volta faccio così, quattro, cinque. Due, sei, sette, otto, beh, li numero, faccio prima. Uno, già ho perso il segno. Due, questo qua è quello senza bambezu, non me lo ricordo, senza bambezu, sembra una mossa speciale di Kenshiro. Tre. Anzi, più di Nanto. Adesso ti faccio un bel senso a bambezu e ti apro in due. Dopo il tre c'è il quattro. Quattro, cinque. Non è capire dopo il cinque cosa c'è sei. Sette. Otto. Così non devo stare ogni volta a vedere nove, me ne manca uno. Ok, scriviamo il dieci. E poi faccio il coso. Allora, abbiamo nomasu kuasu de ataraku, senza bere e mangiare. Cosa significa? No, mi sai che questa è una regola. Wakime mo burasu benkyosuru, shirasu shirasu, ikono micinielu. Cosa significa? Nomasu, senza mangiare, eh, lavoro. Wakime mo burasu. Wakime mo burasu shirasu. Shirasu shirasu, senza saperlo. Ikono micinielu. Sono entrato in un'area, lo scrivo, ma questo non l'ho capito, sincero. Cioè, lo mi sembra, nomasu kuasu, senza né bere né mangiare. Nomasu, noma, però non c'è esempio, non c'è niente. Nomasu kuasu, quindi li scrivo così al caso. Senza bere né mangiare de ataraku, lavorare senza bere e mangiare. Come fanno tutti i giapponesi normali, cioè non vedo il problema dov'è. Senza bere né mangiare sarebbe. Senza bere, senza bere o mangiare. Senza bere e mangiare. Lavoro senza bere e mangiare, giusto? Qual è il problema? Wakime non lo so. Wakime? Wakime mo burasu. Furasu. Ah, senza toccare. Ficchia, che fastidio. Wakime però non lo so. Senza toccare, Wakime. Senza sbatter ciglio d'occhio. Senza sbattere ciglia. Questo sarà ciglia, secondo lui. Eyes on, on look. Che cazzo è? Wakime o furasu. Without look. Senza distorger lo sguardo. Senza battere ciglia, il nostro senza battere ciglia. Lo scriviamo col canji perché c'è. Anzi, lo facciamo col canji. Anzi, lo facciamo col canji. Tac, tac, tac. Wakime. Furasu. Senza sbattere ciglio. Senza distrarsi. Senza distogliere lo sguardo. Distogliere lo sguardo. L'esempio è Wakime, questo non lo sapevo, Wakime mo furasu, anche perché mi distraigo sempre. Furasu, bello. Scritto così poi. Wakime mo furasu. Furasu, non mi esce, ok? No, non mi esce, perché non esce? Perché non esce? Non mi esce il canji che mi mette il dizionario? Furasu. Vabbè, lo mettiamo. Furu. È questo. Ok, furasu. Benkyo, suru. Ni, benkyo, suru. È sicuro? Benkyo, wo, suru. No, non c'è wo. Benkyo, suru, basta. Ok, poi abbiamo Wakime, zang. Qua li metto tutti e tre. Mi ha messo tre modi di dire così veloci, proprio belli freschi. Shirazu, Shirazu. Senza saperlo. Shirazu. Shirazu. Senza accorgere, ma sarebbe Shirazu, Shirazu. Ma non so perché, ah, perché ho scritto G al posto di, no, ho scritto G al posto di di Shirazu. Shirazu, Shirazu, Shirazu. Senza saperlo. Iko no mi, no mi, no mi, no mi ci ni. Aita. Iko è una strada che non posso andare, no? Non ricordo. Iko. Mi ci banda in gina, mon o a. Niente, non riesco neanche a più scrivere Iko. Funziona in Giappone fissare una ragazza per conquistare la città del modo di dire senza distogliere lo sguardo. Ho sbagliato la via, o sono entrato nella, Iko è delinquenza, in una strada, misconduct. Cos'è? Aspetta un secondo, che sono a un momento tragico della mia vita. Misconduct. Misconduct. Come cazzo si scrive? Mi scond... No. Non lo so scrivere. Lo copio, non riesco a scrivere. Una delinquenza si può significare, o cattiva condotta. Ah, senza sa... Shiraz o Shiraz, no? Senza saperlo sono entrato in una brutta, cioè in un brutto giro. Questo non lo sapevo. Io l'ho tradotto come in una strada sbagliata. Iko no michi, questo me lo segna, no michi, ni aero. Sono entrato in una brutta compagnia. Qua è delinquenza, Iko. Me lo scrivo qua. Iko delinquenza, o brutta compagnia, delinquenza, brutta comp. Scusa, funziona in Giappone fissare una ragazza? No. Direi di no. Direi assolutamente di no. Sono cose che non devi fare. Io mi ricordo quando ero in Giappone all'epoca, quando ero giovane, che adesso non lo so come si comportano, magari sono un po' più friendly. Prima è quando io camminavo inconscientemente, senza saperlo inconscientemente, va bene, affetto, però facciamo così. e io mi fermavo, non capisco cosa è scritto Will Bult. Aspetta che lo trovavo a tradurlo. Buonasera dalla Cina. Buonasera. 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 Mi hai scritto. Hello. Niao. Ok, Niao, bravo. Non lo so il cinese, sfortunatamente. Bravo te che lo sai. Allora. Sì, sì, ho visto, ho visto. Niao. Il traduttore giapponese traduce anche il cinese, quindi vabbè. Però bravo, io non lo sapevo. Allora, per me quello lì è uno e su chi e l'altro non lo conosco. Tu sei in Giappone. No, no, sono a Milano. Tra un po' andrò a vivere in Giappone, ma in campagna, sotto il Monte Fuji. Creerò il laboratorio tipo quello di Mazinga Z, davanti al Monte Fuji, abiterò lì. Che sembra una battuta, ma non lo è. È la verità, tra un po' andrò lì a vivere. Solo che c'è solo campi di riso e uva e basta. Mi chiameranno The King of Uva. Io vivo vicino alla Siberia. Ah, minchia. Beh, però internet è già una cosa positiva. Allora, Shirazu Shirazu, icono miciniero. Sono entrato in una brutta compagnia senza saperlo. Inconsciamente, con il cuore e con la mente. In una città di 10 milioni di abitanti ha. Ah, minchia. Beh, non sono pochi. Cioè, praticamente, dove vado ad abitare io saranno in 10, di cui 4 sono i miei parenti. Non so perché ho messo tutto rosso. Vabbè, rosso non c'entra niente, non metto rosso, se no mi confondo da so. Adesso scriviamo tutto perché tu dici, vabbè, è scritto. E adesso? E adesso devo scrivere anch'io. Dai, scrivi anche tu. Adesso, mi dispiace per voi, devo spostare il libro perché... Questo libro qua è bello, anzi, mettiamo il segno, a parte che c'è un pelo di cacchio. Mettiamo questo. Unicom. Vediamo di che anno è questo qua. No, niente. Qua, scusate il casino. Adesso devo guardare la telecamera perché non so se sono dritto o se sono storto. E adesso scrivo anch'io tutte queste fantastiche cose. Perché dici, vabbè, penso che le hai scritte a PC, le hai imparate. No, le scrivo così mi rimangono in testa. Ma non è assolutamente vero. Allora, intanto vi canto delle canzoni fantastiche. Takane Noane, che letteralmente è un fiore con... Questo qua è radici, però dice alte, con radici alte, che significa una cosa irraggiungibile. Aiutomi, andate via la voce. N2, modo di dire. Qua me l'ho inventato io, questo libro non esiste. Modo di dire. Modo di dire. Allora, Takane Noana. Questo è il numero uno. Mettiamo uno da qualche parte. Uno. Takane Noana. Uno. Takane Noana. Significa alto prezzo XD. Significa alto prezzo. No, sì, no. Quello è Takane. Questo qua è diverso. Quello di... Come si chiama? Quello di... Come cacchio si chiama? So anch'io Takane che è prezzo alto. Però questo qua è proprio Takane, che è quello delle radici. Che significa irraggiungibile sarebbe. Eh... Mo' lo scrivo il raggiungibile di fianco. Aspetta che te lo... Mo' mi me lo devo andare a cercare. Vedi? Guarda. Non so se lo vedi. Il kanji non è quello. Aspetta che figa. È tutto appannato qua. Ko no yo no a te wa ko yo otomu. Poi magari il libro è di mille anni fa e quindi lo scrive in modo sbagliato. Però si vede? Vedi che c'è scritto Takane. Con quello di radici. No no questo. Proprio questo. È figa. Quando me lo scrivete sul coso te lo scrivo. No è diverso. È proprio quello che vedi qua. È Takane, è scritto così. Almeno che non so. No no è proprio scritto così. Che poi ha lo stesso significato di quello che hai detto tu. Però è scritto così. Almeno sul libro del 1993 è scritto così. Aiuto. Allora hai scritto un altro kanji sul file di Excel. No no è quello. È quello lì che ti ho scritto. È lo stesso. È lo stesso. Quello che ti ho scritto è questo qua. Quello che ti ho scritto nella chatta. No no è quello lì. Takane. Esce anche. Allora quello che dici tu è questo. È quello che dico io. Cioè quello che dico io. Quello che c'è scritto sul libro è questo. Però il significato è uguale. Se tu li metti sul dizionario. Cioè sul nel. Come si chiama? Se lo metto sul dizionario escono tutte e due. Che significa irraggiungibile. Anzi non esce proprio. Ne avevo visto un altro. Ero sicurissimo. Se tu metti solo Takane. Ti mette altre forme. C'è scritto quello che hai messo tu. E poi mette anche Corei. Che hai messo. Cioè praticamente sono tre. Quello che ho messo io. E quei due che hai messo tu. Sono in tre. Aspetta ti metto questo qua. Così lo vedi. Non è per farlo sborro. È da fregancazzo. È per farti capire. Il libro praticamente usa una forma vecchia. Usa una forma vecchia. Che è quella. Cioè che sto copiando dal libro. Poi non è che. Cioè si dice in tre modi diversi. Puoi scrivere anche Takane. E scritto nell'altro modo. Se vedi sotto c'è scritto altra forma. E c'è scritto quella che ho scritto io. Che praticamente è quella di. Dell'epoca del 2000. Nel 2000 si dice. Anzi nel 1993 si diceva così. Perché il libro del 1993. Ristampato nel 2000 con quattro parole in più. Allora Takane wa. Scriviamo perché sennò qua. Vai che non ho fretta. Tanto non ho fretta. Takane. Takane no ana. Irraggiungibile. Scriviamo. Irraggiungibile. Irraggiungibile. Ok. Questa cosa che ho scritto sotto. È la spiegazione. In giapponese. Che poi ve l'ho tradotta più o meno qua. Però io la scrivo giusto per sport. È per. Takane. Per allenarmi. Cioè non mi serve. Takane no ana. Irraggiungibile. Lo scriviamo. Irraggiungibile. Il problema è che non so scrivere in italiano. Irraggiungibile. Allora. Poi abbiamo. Oishi. Keredo. Lo vorrei. Così rileggo. E vedo anche se sono capace di rileggere quello che ho scritto un minuto fa. Oishi. Cioè Oishi che sarebbe Oishi. Che io dico sempre Oishi. Non so per qual cazzo di motivo. Oishi che significa lo voglio. Lo vorrei. Keredo. Ma. E c'è sempre un ma. Keredo. Teni airenai. Teni airenai. Che significa che non ti entra nelle mani. Che significa praticamente che non riesci ad averlo. Teni. Teni wa. Teni wa. Airenai. Che non puoi averlo. Lo vorresti ma non lo puoi avere. Lo puoi solo guardare da lontano. Come faceva mia mamma quando ero piccolo. Mi diceva che se facevo il bravo. Mi faceva guardare gli altri che mangiavano il gelato. Ga de Kenae. Mi dite perché sei diventato così. Hai chiedito alla mia mamma. De Kenae de. Toku Kara. Da lontano. Vedi che anche c'è scritto Toku Kara. Da lontano te lo fa solo vedere. Che come faceva mia mamma. Mi facevano vedere i bambini che mangiavano il gelato. E io ero contento. Toku Kara. Mite Iru. Mite Iru ti fa guardare da lontano. Da che solo. Da che. Nomono. Una cosa che puoi vedere solo da lontano. Una cosa che vorresti ma puoi vederla solo da lontano. Tokyo Tonai. All'interno di Tokyo. Tokyo Tonai. Tokyo. Ichiban da Ijinamonoa. Tokyo. Tonai. Tonai che vi ricordo che è quello di Minato. A meno che non dico la stronzata. Miyako. Minako. Miyako. Miyako forse. Miyako. Ogni tanto mi tornano in mente cose che ho studiato due giorni fa. Miyako. Tonai. Scusa. Adesso continuo a pronunciarlo. Minako. Ikko. Ikko date. che è appartamento costruito o palazzo costruito o casa costruita all'interno di Tokyo. Ikko date no Ie. Ie è casa. Come è casa mia. Ikko. Nante. Nande darò. Nande darò. Sore ma nande darò. Nande. Takane. Vedi che qua l'ho scritto come l'hai detto tu. Qua l'ho scritto nell'altro modo. Invece era. Cioè è giusto anche questo. Ma è giusto anche là. Quindi devo scriverlo così. Qua l'avevo scritto nell'altro modo. Cioè l'avevo scritto in teoria nel modo moderno. Però questo libro è vecchio. Ah allora l'avevo visto bene. Sì sì no l'avevi visto bene. Takane no Ana. Perché comunque si può scrivere in tre modi diversi. O Korei. O Takane scritto con il prezzo. O Takane con le radici. Che questo è il kanji. Quello di radici. Cioè sarebbe rami alti. Rami lunghi. O tipo fiore alto. Yume no Nakano Yume. Yume no Yume da. Un sogno di un sogno. Invece Otoko no Nakano Toko significa figo. Otoko no Nakano Otoko. Che lo potete sapere solo se avete visto. Come si chiama. Elito Yankee Zaburo. Che ve lo consiglio. È uno dei miei drama preferito. Poi. Questo non me lo ricordo mai. Senza Bambezu. Che sembra. Sai quelle cose che scrivono dietro alla schiena. I tipi che fanno a botte. Come si chiama i motociclisti. Non sono i motociclisti. Poi vabbè ci siamo capiti. Quelli che fanno a botte. Tipo GTO dietro alla schiena. Aveva tipo scritto senza Bambezu. Che suona da Dio. Però poi significa cose diverse. Due. Allora. Mototepisti. Mototepisti che non mi ricordo il nome. Come si dice. A casa di Mako. A casa dove devo andare ad abitare adesso. Ci sono. Bososoku. Ci sono ancora. In tutto il Giappone sono spariti. Invece dove abita mia moglie. Ci sono ancora. Perché sono rimasti un po' iniettina. Senza Bambezu. Ogni volta che passano in moto. Che c'è una strada sola. In quella città. Io esco fuori. Guarda che figlie. E' la mamma di Mako che mi ferma. E dice. No è pericoloso. Ma cosa dici? È pericoloso. Sono bellissimi. Senza Bambezu. Prima o poi mi picchieranno. Però vabbè. Allora. Senza Bambezu. Comunque vi ricordo che il periodo migliore del Giappone. Era quando c'erano i Roccabilli. Che ballavano ad Arajuku la domenica. Adesso il Giappone è triste. Non mi piace più. Bambezu. Per quello non vado a Tokyo. Allora. Senza Bambezu. Poi pieno di italiani. Non c'è un po' di vedere gli italiani. Senza Bambezu. Estremamente vario. Vario. Vario significa. Sì. Mettiamo estremamente vario. Per sport. Estremamente. Estremamente. Vario. Poi facciamo. Minna Chigao Koto. Cioè significa che tutti. In modo diverso. Significa Minna Chigao Koto. Lo scrivo giusto per sport. Minna Chigao Koto. Le canji di Chigao. Scusate. Ah sì. Sono sulla parte giusta. Chigao Koto. Chigao Koto. Poi. Onaji Toki. Onaji Toki. O. Yonde. Yonde. Yonde mo. Onaji. Yonde mo. Onaji no Toki. Yonde mo. Ytoni yote. Ah va. Per qua. Kanji Katawas. Non me lo ricordo già più. Senza Bambezu. Anche se leggono nello stesso momento sentono in base alle persone lo sentono sentimenti diversi. Non sentimenti. Lo percepiscono in modo diverso. Onaji no Toki. Onaji è uguale. Toki è il fratello di Kenshiro. Onaji no Toki o Yonde mo. Anche se lo leggiamo nello stesso istante e nello stesso momento. Ito niyote in base alle persone. Nemo ito niyote in base alle persone. Ni yote. Kanji Kata in modo di sentirlo. Che detto così è bruttissimo però. Kanji Kata wa. Senza Bambezu. Basta. È diventata la mia parola preferita. Senza Bambezu. Adesso me lo tatuo sul sedere. Senza Bambezu. Allora poi. Ma il tipo dell'Alaska dove è finito? Non dell'Alaska. Dove che era? Di dove era Wilbut? Siberia. Non mi ricordo più. Uè spacca. Come va? Kugio Sasuke. Infilare il chiodo. Sarebbe come. Come faccio a dirlo? Un senso che abbia anche in italiano. Tutto bene purtroppo con la scuola non riesco a vedere le live. Vai tranquillo. Puoi vedere le live quando vuoi perché tanto anche quando io morirò su YouTube e su Twitch ci sono le mie live e le potrai rivedere. Tu non ti preoccupare. Quando potrai. Quando potrai. C'è sempre tempo per studiare il giapponese. Infilare il chiodo si dice in italiano non infilare il chiodo. Com'è che si dice? Tipo non infilare il coltello nella piaga. Com'è che si dice in italiano? Non mi ricordo. È tipo una cosa del genere. Vabbè lo lascio così. Comunque è tipo una cosa del genere. È tipo infilare il dito nella piaga. E anche Alex ha lasciato una traccia nella storia a girare il coltello nella piaga. Mettere il coltello nella piaga. È una cosa. Non si dice così in italiano. È la traccia che io sono esistito. Metti che prima o poi morirò. Però la gente studierà ancora il giapponese. Soprattutto le mie pronunce del 1993. Infilare il chiodo. Perché infilare il chiodo è proprio come è scritto. Cioè è letterario. Però significa girare il dito nella piaga. Però qua è praticamente la moglie che ricorda lui di non continuare. Cioè che lui ha questo vizio brutto di bere e fare cose stupide. Gli dice non fare le cose stupide e non bere quando vai in viaggio di lavoro. Infilare il chiodo. Soprattutto. Girare. Non è tanto girare il dito nella piaga. Vabbè lo lascio così poi. Comunque il senso è quello. L'avete capito. Non mi viene in italiano perché l'italiano non lo so. Allora tre. Cugli o sassu. Ti infilo un chiodo nell'occhio. Occhio forse non c'era scritto. Comunque Cugli è chiodo. E sassu è infilzare. Si usa anche forse per quando accoltelli qualcuno. Cugli o sassu. Sassu me lo scrivo che sicuramente non me lo ricorderò. Infilare il chiodo. Mettere il dito nella piaga. Mettiamo infilare il chiodo. Poi me lo ricorderò tanto. Tanto non lo userò mai. Infilare il chiodo. Non parlo così giovane. Allora. Cugli o sassu. Ste wa ikenai to nen o osu koto. Ricorda. Osu. Spin. Mettere l'attenzione su una cosa che non devi fare. Ste wa ikenai. Ste wa ikenai. Una cosa che non devi fare. Ikenai koto. Ikenai to. Nen. Nen che è quello di Zanen. E da solo non sapevo neanche che significava Nen. O. Osu. Osu koto. Aspetta che apro il libro un secondo. Ah sì ma valla a trovare adesso dove è che l'avevo copiato. Non lo troverò mai. Vabbè. Rimarrà così per la storia. Poi. Qua c'è l'esempio. Zuma. Zuma è la moglie. Zuma. 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 Ziaizni. Ziaizni sono la gente che lavora nell'azienda. O gli impiegati. Ziaizni, Ryoko. Viaggio degli impiegati che si usa solo in Giappone da noi non c'è più. che sarebbe tipo la gita scolastica ma fatta dall'azienda adesso non so se le fanno ancora una volta si usava 8 è marito e attenzione che quello sopra è più piccolo di quello sotto invece mazu quello più grande è sopra e quello più piccolo è sotto nel mazu o shumatsu fine settimana è il contrario io ogni volta questi due mi li confondo e ogni volta nell'esercizio ci sono e io non mi ricordo mai quello più piccolo è il papà cioè il marito la moglie ha il marito che sta per andare in viaggio aziendale diciamo come solito come sempre sarebbe come al solito io parai essere un ambriaco io parai vai che i giapponesi basta che bevano un bicchiere sono umbriachi poi dipende da giapponese a giapponese comunque gli diventa la faccia rossa io parai io paratte baka nakoto e non fare cose stupide baka nakoto uosuru 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 njanai njanai e non fare cose stupide njanai o njanai robotto njanai no yo ok poi tokugi eh sì mi mancava proprio la cosa più importante tokugi sasta tokugi sarebbe gli ha ricordato di non fare cose stupide gli ha rammentato rammentare ve lo metto qua rammentare senti che parola difficile rammentare mai usata in vita mia tokugi che neanche in italiano non ha usato rammentare kugi o non so neanche come mi è venuta fuori uè come sei milanese uè come sei milanese le rammento signora e beh sono di milano ah io abito a Milano kugi o sasta ok poi abbiamo la numero 4 e al posto numero 4 abbiamo okabu o ubau che significa che ti rubò la reputazione okabu o ubau okabu o ubau ubau è rubare proprio cioè togliere sottrarre per una precisione sottrarre il problema è che è sempre quello solito che l'italiano non lo so so cosa sto dicendo in giapponese ma in italiano non mi viene allora okabu o ubau viene da gesto di cucire rammento che solitamente è uno nodo da ricordare rammentare eh che cosa difficile vedi troppo difficile da ricordare preferisco ricordare senza bambezu mi viene più facile che ricordare il dizionario milanese italiano top allora aruito nitokuinakotowo una persona che è brava a fare una cosa sottokara monoga moto josunissuru ma una persona che entra da fuori la fa meglio aruito che poi questa è la spiegazione io ve la metto giusto per sport aruito più che altro per allenarmi a leggeri cangi forse l'ho ripetuto 1877 volte da quando ho iniziato però va bene lo stesso esci un qualcosa di bresciano massi eh quelle massi mi chiederà lui io il bresciano non lo so cotto uo sottokara sottokara aita 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 catta ai takatta ai takatta ye ai takatta ai takatta ai takatta ye kimini suki da kara suki da toyo vi devo imparare il giapponese cantando le canzoni adesso quando tra qualche giorno magari facciamo una lezione un po' più stupida che magari mi traduco una canzone di mazinga goldre ecco quello che mi viene in mente e poi ve la canto anzi poi la cantiamo tutti insieme lo hacker che bontà gaegokujin rikishi questo qua è il lottatore di sumo rikishi è il lottatore di sumo dovrebbe essere ovviamente su discord no ovviamente no su discord no gaegokujin no no a parte che io e te ci provo ci possiamo sentire su discord che comunque ieri sei un più è il termine più usato in ogni occasione e culet e culet questo lo so anch'io e comunque ieri sei un peppino perché quando ti sei riregistrato sei uscito vedi che mi è uscito sconosciuto lo sconosciuto è uscito dalla chat io ti avevo scritto però quando ti sei riregistrato su line hai usato un altro nome e come numero non ti trovo come numero di telefono non so come ti sei registrato comunque gaegokujin no sempre protogene numero di telefono eh lo so però me lo cerco non mi esce o mi hai bloccato quando hai visto che ti ho scritto e in automatico non mi ti fa più entrare comunque ci sentiamo su discord quando poi me lo dice ci sentiamo su discord no ho cambiato il cellulare ah ecco perché ho cambiato il cellulare allora allora questo qua è gaegokujin rikishi che sarebbe i lottatori di sumo esteri gaegokujin rikishi no questo qua è katsu yaku che non so per quale motivo non sapevo leggerlo lo so ma boh stupido li ho provati tutti tranne katsu yaku però adesso lo sappiamo ce lo sappiamo adesso me lo ricordo aia katsu yaku ga medatsu è tirare l'attenzione medatsu medatsu punto nionno nionno sumo wa il sumo giapponese nionno sumo sumo wa kai gai no kai go hm gaiko kujin scusate gaiko kujin gaiko kujin ni sukkari sukkari okabu ubawa reso sembra che gli stranieri ruberanno il sumo al giappone okabu 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 non me lo ricorderò mai okabu ubawareru 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 si ti ricordi quello più difficile e non quello più facile non lo so ho fatto così ubawareso perché ubawareru lo uso molto di più di okabu funi ni o cinai non avere senso funi ah 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 ecco vedi ne ho fatto uno in più quindi questo qua è 5 funi ni o cinai maledetta primavera questo è 5 quindi qua sballo tutto niente ho sballato tutto 6 andiamo a bere 7 8 ne ho scritti tanti comunque 9 e 10 vedi che ho fatto bene a numerarli e 11 su chi da cara su chi da toi buongiorno alex uè davis come va quanto ti ho quanto ti ho un po tutto bene eh ah 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 ok funi o cinai non avere senso 5 funi o cinai funi o cinai non ci è male bene sono contento eh non avere senso non avere senso rubare reputazione eh natoku de kinai wakaranai una cosa che non capisci o che non eh non sei d'accordo natoku natoku mako è ancora in japan mako è ancora in japan e tornerà al 3 ma eh de kinai forse lo scopriremo solo il 3 wakaranai lo scoprirete il 4 dal rumore che c'è in casa eh konohanashi e wa eh nanikahen questo discorso mi sembra un po' strano ah konohanashi 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 wa eh nanika nanika sarebbe più che nanika e nanika nanika nankahen da questo discorso mi sembra un po' stranito nanika nankahen da eh doka do kokade do kokaa da qualche parte do kokaa funi eh ocinai tokorogaru c'è qualche parte che non ha senso ucchi 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 nai tokorogaru ashitagaru 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 pinkara kirimade dalla cosa migliore a quella peggiore qua l'ho scritto sotto uguale pinkara kirimade non lo sappiamo neanche questo qua non l'ho mai usato in vita mia pinkara kirimade che non so neanche cosa significa né pin né kiri perché sono due parole in in katakana che significa che sono due parole straniere io l'inglese non lo conosco quindi siamo fottuti allora ichiban i ichiban daijina monohan ichiban toku e kikuto monohara ichiban warui warui è cosa brutta brutto 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 warui monohan ma la cosa più bella quella più brutta camera toittemo se parliamo di macchine fotografiche camera toittemo se parliamo di macchine fotografiche skyste skyste usa e getta il nostro fantastico usa e getta skyste skyste che ormai non si usano più le macchine fotografiche c'è qualcuno di voi che usa ancora la macchina fotografica skyste no tsukai c'è yasui questo yasui yasui camera macchina fotografica economica kara no no esatto ormai a meno che non di fare cose del lavoro non le prendi shoku che poi adesso i telefoni pian piano stanno anche diventando quando vado in viaggio mi porto la canon fotocamera del telefono eh tutti usavano la fotocamera del telefono sei retro proto sei retro come me a guardare la mia macchina la mia macchina fotografica che bella che era sony non rompetemi i maroni cybershot io usavo questo ma che bella ma che bella certo le foto che faccio con la canon il telefono non le fa ma che bella 128 128 mega e beh ma i telefoni nuovi adesso un po' si bella compatta 128 mega di foto c'ho ancora la batteria dentro sarà marcia e invece no che bella che è la memory stick è ancora nuova ma che bella la infolitium cybershot e l'avevo regalata anche la mia mamma allora prima facevo sempre regali della sony poi quando ho iniziato a fare cose che non sono made in japan non ne ho comprato niente a me piace il made in japan shoku shoku gyoyo che significa che utilizzo per lavoro no coca 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 che prezzo alto coca namono made pinca ra e va bene ci sto pinca ra pinca ra pirima de arimas io avrei messo un gap però non c'è arimas e quindi non lo metto se non c'è periodo o uzu appendere al chiodo che è quello che farò io pre ah no ho già appena il chiodo lol piri il problema è che sto penzolando sul chiodo da un po' non so cosa farò del mio chiodo periodo o uzu che significa picchiare il periodo letteralmente però non ha quel significato lì appendere al chiodo imamade tsuzuketa koto o oeru una cosa che hai fatto fino adesso finisce imamade tsuzuketa tsuzuketa koto uo oeru è finita è finita una cosa che stavi facendo fino adesso oeru qua lo faccio la prima volta che ho fatto il kanji di oeru giusto con i trattini nel senso giusto di solito questi due qua li faccio dall'altro lato chichiwa kotoshi tenen tai shoku stè figa senti che roba chichiwa il papà poi pronto dovrai leggermi anche queste parole qua tu pensi che non le dovrai mai leggere e quello che ti aspetta è questo qua se tu non mi leggi lì ragana come vuoi leggermi kotoshi tenen tai shoku piano piano esatto pian piano tanto come ripeto la lezione è sempre lì perché se io non ci sarò più la lezione c'è e tutti si ricorderanno di me come lo stronzo che faceva le live di giapponese su twitch sai io parlo giapponese perché ho seguito il corso di quello lì che faceva le lezioni gratis ed è morto da barbona allora questo qua è tai shoku che significa lasciare lavoro lui quest'anno lascia lavoro per pensione tenen e pensione nostalgia ancora prima che accade prima o poi sarà così nagakata nagakata è lungo tempo e ricordati che anche prima o poi il libro se hai un pm post live ok non li vedo perché non faccio mettere i suoni pm eccetera eccetera perché se no mi entro nel live quello a zero i suoni se non vedete che vi rispondo esattamente o a come si chiamano su anche com'è che si chiamano su discord e robe varie perché quando registro soprattutto spengo tutti gli audio o quando faccio le live non perché sono stronzo perché se no si sente questo è sei katsu che è modo di vita salariman sei katsu scusate non ho detto niente allora quest'anno mio papà lascerà il lavoro perché entra in pensione e finirà appenderà al chiodo la lunga vita da salariman è impiegato quello che non voglio fare io perché mia moglie già mi aveva trovato un lavoro da impiegato gli ha detto tu sei pazza che vengo alla mia età venere età a fare l'impiegato in Giappone torno a casa alle 2 di notte e mi rialzo alle 5 per andare a lavoro tu sei completamente pazza se mi devo sdraiare su una maca e guardare i campi di riso vengo molto volentieri 8 su un de su un de no toco rode stavo quasi per farmela addosso e invece ho trovato un bagno su un de io ho mai usato questi modi di dire qua su un de no toco rode su un de no toco rode mi stavo cacando sotto però ho trovato un combini e quindi loro erano molto felici quando sono uscito mosso koshi a yao ku a yao ku a yao ku a yao ku ma siamo a ya oh mio dio poi ho voluto il dubbio a yao me lo ricordo a yao ku a no esiste a yao ku ok per poco è stato pericoloso mosso koshi a yao ku questo me lo scrivo perché sapevo le altre due pronunce ma a yao ku non lo sapessi e mosso koshi ancora per pochito mosso koshi a yao ku a yao ku a yao ku questo me lo scrivo a yao mamma mia con lo scritto a yao ku a yao ku sta dentro e uku sta fuori ok su un de no toco rode sciuto questo è sciuto che è quello fare all'insidone cioè sarebbe fare uno scontro con la macchina che non mi ricordo mai collisione significa su un de toco rode no su un de no toco rode manca un no qua e mo me lo devo andare a cercare questo è su un de no o su un de o su un de toco ro devo andare a cercare limor te fraterni te liberte ho saltato un pezzo mi sono aspettato i ci bandai gina pinka rap periodo ok questo è il periodo eh eh periodo o futta eh quella dopo e mo vanno a trovare eccolo qua su un de no toco infatti è su un de no toco ro ok su un de no toco ro poi ho saltato un no su un de no toco rode ehm guarda che vado su che voi dite ma tanto non capiamo un cazzo di cosa che sta scrivendo va bene lo stesso su un de no toco rode per poco eh su tozu su tozu eh collisione che collisione sana perché ti amo eh dimmi tora vuoi venire qui tora mi guarda come per dire vengo lì su tozu su tozu su tozu su tozu eh toco roda per poco stavo per fare una collisione è stato pericoloso abunakatta 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 yeah kimini su chi dà cara su chi dà to io kirigai allora qua abbiamo eh eh stavo quasi per eh c'è mancato poco eh mi è venuta la parola da porre eh c'è mancato poco poca su chi dà cara su chi dà kirigai essere a buon punto o kirigai io sapevo kirigai uso sempre kirigai po che significa non finisce più eh kirigai eh nove kirigai ora l'amore di papà e chi è l'amore di papà morbidissimo morbidone mh è qua e non sono pazzo vuoi studiare conmigo ma come vibra la coda cosa c'è hai fame mi sa che ha fame tanto è che gli devo mangiare balla con me balla con me ma non l'hai mangiato non ci lo so balla con me balla con me pensa a me pensa a me sono ora se non mangi l'umido non ti do niente quindi è inutile che vieni qua a scodinzolare con quel tuo modo sexy Torah usa graffi e mi rompe il cu o è danito danito al cioccolato tu me ne ruba kirigai essere a buon punto kirigai eh questo non lo sapevo kugiri kugiri gai fare una pausa kugiri gai non lo scrivo perché non lo sapevo allora essere buon punto kugiri questo qua non lo sapevo leggere kugiri cioè nel senso kugiri non lo sapevo leggere kugiri sia quello di tagliare affettare ora che stai ripassando sto ora stai ripassando no sto facendo ho trovato dei modi di dire su questo libro qua che non sapevo tipo tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zio pino e quindi ho detto faccio questa roba qua ehm infatti non li so adesso si posso dirlo ai miei amici kugiri gai a fare il figo quando non lo sapevo fino a un minuto fa fare una pausa kugiri pausa allora mamma mia ha scritto pausa malissimo shigoto no kiri gai tokorodè visto che siamo a buon punto con il lavoro shigoto shigoto ah scusate shigoto shigoto nokiri gai tokorodè visto che siamo a buon punto con il lavoro tokorodè oh cia oh cia oh cia oh cia tanto Mako non torna suo padre L ha trovato un ceo da sposare ma ma quello va bene cioè io non ho problemi se Mako si trova qualcuno non hai capito che a me cioè non che non mi interessa sono contento per lei io sono contento se lei contenta poi lei può decidere quello che vuole non sono nel senso può fare quello che vuole è libera di è libera di stare con me come è libera di stare con chi è che vuole quando cresci ti passa questa cosa qua a me non sono né geloso né niente 10 Anagatara Airitai se ci fosse un buco vorrei entrarci che non ci sta scritto cioè non ci sta proprio scritto nella forse se faccio così sì però sì non so se ci sta allora 10 direi se è stronzo no semplicemente che mi fido di lei e basta però al momento che lei va con un altro che vuole uscire con qualcun altro eccetera eccetera è finita e basta non cambia l'uno Anagatara The life is only one Aintai non mi può diventare pazzo quando ero giovane sì adesso non frega niente cioè non credo mai frega niente non divento pazzo per queste cose Anagatara Airitai se ci fosse un buco ci vorrei entrare ma non lo scrivo perché è troppo lungo Kakurete Shimaitai Odo Ijoni Azukashi mi vergogno così tanto che vorrei nascondermi Kakurete Shimaitai o vorrei nascondermi dalla vergogna sì l'ho scritto sotto infatti Kakurete Kakureru è nascondersi Kakureru però non me lo ricordo in questo caso io lo sapevo però l'ho letto prima come ho fatto a leggere non lo so l'ho letto Kakurete No vabbè la fiducia è rara in sti i tempi Eh lo so però non è così Kakurete sì naturalmente perché è giapponese se fosse italiana parti già dal fatto che da un giorno all'altro potrebbe finire e basta senza offesa per nessuno però dalla mia esperienza personale è sempre stata così e non sto lì neanche lì stavo impazzire sapevo che era così e basta invece magari c'è gente che ci rimane male però se sai cosa cosa succede prima te la prendi come dovresti prendere che non significa che sei insensibile significa solo che sei reale invece tutti mi dicono eh ma sei pessimista però alla fine se succede non ci rimango male quello delle mogli senza la loro insaputa eh lo so perché poi ci rimane male capito come tutte le cose io guardo sempre il lato negativo e tutti mi dicono eh ma guardi sempre il lato negativo se poi succede il lato negativo significa semplicemente che me lo aspettavo se invece non succede succedono cose positive sono ancora più contento però almeno non ci rimango male in caso contrario allora poi ah no da qua devo iniziare mentre stavo tornando ho finito di parlare stavo tornando alla mia sedia sono caduto come un salame allora no è iniziato quello delle foglie dimmi se si sente ciu pici uo o e te o e te secchi secchi è la sedia secchi ni modoru modoru è tornare no non si sente meglio così modoru lo stavo sbagliando anche a scrivere eccolo il nostro eroe l'eroe delle foglie tochi koronde shimata darumaga koronda koronde shimata sono caduto anaga attara anaga attara se ci fosse un buco anaga attara airi tai curai non so perché curai a me viene da dire curai boh l'ho già detto anche prima per così azukashi azukashikatta mi sono vergognato così tanto che volevo nascondermi inside un buco azukashikatta questo si usa anche in italiano c'è lo stesso modo di dire poi questo qua è 11 11 11 11 11 nomasu nomasu kuasu senza bere né mangiare nomasu 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 kuasu senza né bere né mangiare kuasu de ataraku lavorare senza né bere né mangiare giusto? giusto? mi sembra logico anche come cosa ataraku poi senza togliere lo sguardo questo qua non lo so chiangi la prima volta che lo vedo wakime mo furasu wakime che è quello di gezu più do ryoku me mo furasu furasu e me lo scrivo perché non lo so wakime furasu wakime mo furasu furasu ok wakime mo furasu ni ben kyo sta ho studiato senza distogliere lo sguardo ni ben kyo suru è questo qua quello è ben kyo che è il cangi di studiare ben kyo e torah e cosa c'è? vuoi venire a salutare i danni? vuoi venire a salutare i danni? è quello lì è quello brutto lo vuoi mordere? cosa c'è torah? perché mi guardi così? perché mi guardi così? ahia perché mi mordi così? mi mordi aiuto torah perché mordi papito? ben kyo ben kyo torah mordi papito torah usa stacca braccio torah usa fulmine stacca braccio no direi di no shirazu shirazu senza saperlo mi sono caccato sotto shirazu 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 tirado senza saperlo tirado ma ha tirato un pugno veramente ma che cazzo mi ha tirato un pugno torah ma sei stacca mi tappo cosa hai mi tappo allora stacca pacco che cazzo che cazzo che cazzo adesso ho capito perché mi ha tirato un pugno ha vomitato mi ha vomitato scusate questo qua non lo sapevo sono entrato in una strada in una brutta strada in una brutta compagnia Ico questo non lo sapevo Ico Ico Arai e come ero al telefono mi son perso momenti ti poteva alitare no mi ha tirato una manata è venuto qua e mi ha tirato un cazzotto mi son girato e ho visto che ha vomitato adesso ho pulito capito mi ha detto vai a pulire che è sporco Ico delinquenza brutta compagnia delinquenza delinquenza o brutta strada brutta compagnia ok senza saperlo sono entrato in una brutta compagnaia ho preso una brutta via allora vediamo se quanti ne riesco a scrivere qua ne ho scritti 8 qua siamo 11 ne faccio altri 5 dai intanto non ho un cazzo da fare direi ma sono già due ore intanto non ho niente da fare facciamo siamo arrivati qua a parte che sono già non a metà libro ma fai abbiamo qua sujigai sujigai è uno bravo che è uno capace si usa il problema è che abbiamo il libro che non vuole non collabora non riesco a tenerlo aperto cosa posso usare il libro del libro sul libro niente non collaborano i libri oggi allora sujigai ichiban daijina monowa ichiban tokuekikuyo dove cacchio sono 12 juniban vabbè non ce la faremo mai chi è che mi presto una mano devo tenere il libro aperto ci mettiamo sulle caramelle allora 12 juniban sujigai sujigai lo so questo qua lo so sujigai che significa sai no garu che è uno che che è capace che è portato attitudine una buona attitudine essere portato sujigai sai no garu avere le capacità sai no sai no garu questa è la spiegazione dicolo sopra essere essere portato è la stessa cosa non lo scrivo la stessa cosa è la stessa identica cosa non lo scrivo kyo wa ureshikata oggi ero felice poi tora mi ha picchiato kyo wa ureshikata ureshikata ero contento poi tora mi ha picchiato ureshikata date date perché date bayon date cos'è shuji questo non lo so renshu vorrebbe essere shuji esiste shuji aspetta shuji no allora scriviamo renshu ok renshu shu però magari si scrive in un altro modo shuji no è proprio shuji shuji no sensei shuji non so cosa significa sensei bello scritto così sensei ni sujigai sujigai itte sujigai te e beh qua vado a capo non ci sto mi ha detto che sono bravo bravino e quindi sono felice sujigai itte omerare chattano e mi ha fatto i complimenti omerare chattano qua parla con un suo amico perché parla così omerare e fare i complimenti oggi sono contento perché questo qua che non so cosa significa lo vado a cercare il maestro di questa roba qua mi ha detto che sono molto portato e mi ha fatto cioè che sono molto sì che sono portato e mi ha fatto i complimenti calligrafia penmanship non lo sapevo neanche calligrafia questo non lo sapevo non lo segno cioè nel senso lo so leggere non sapevo che era calligrafia che ho va ho riscicato ok posto sujigai essere portato e poi mi ha detto che sono che sono molto portato e mi ha fatto i coccoloni poi age ashi o toru questo non lo so age ashi o toru ito no iu maciga macigai o ogesani o far vedere gli errori degli altri age ashi o toru kagi dekotova no macigai o tori agete ito no age ashi o tote bacari niru ito ha kira e kira uare luzi non capisco il significato no ito no iu macigai o ogesa è fare un vabbè adesso vediamo come come tradurlo 13 cioè fare praticamente gonfiare cioè fare notare gli errori degli altri o fare ingrossare gli errori degli altri age ashi age ashi non mai esatto age ashi o toru vediamo cosa esce fuori brum brum ti dirai perché fai brum brum perché c'è quello fuori che mi sta facendo diventare age ashi o toru cercare tipo gli errori e saltare addosso a qualcuno che ha sbagliato saltare vabbè age age ashi o toru saltare non ci starò mai scriviamo quello sotto comunque trovare gli errori in quello che dice una persona i ito adesso lo scrivo sotto perché qua non ci sto ito no i i macigai i macigai uo ogesa ogesa ni iu non è far notare non è far notare non mi viene la parola in italiano ma si mettiamo fare notare fare notare gli errori degli altri dovrebbe essere una cosa di genere allora la frase è l'esempio caighi caighi è riunione caighi 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 de cotoba cotoba è parola no macigai macigai errore alla riunione quelli che ti correggono gli errori delle parole praticamente ito no agi ashi otote bacari le persone che correggono sempre gli errori degli altri bacari bacari è sempre bacari iruito le persone che fanno questa roba qua sempre vengono odiate wa kirawareru ki wa ki ra wa che è quello di odiare kirawareru ok cos'è che mi devo segnare non me lo ricordo più questo lo devo segnare sicuramente prima avevo detto una parola che mi dovevo segnare ma non me la ricordo ah questa qua no l'ho scritta niente top adesso mi ha scritto agi ashi così però perché come si scrive agi ashi agi ashi adesso me l'ha scritto così perché me l'ha scritto prova a scriverlo così vediamo quale è dei due giusto agi ashi come alzare le gambe basta no perché sei strunz no dovrebbe essere giusto questo qua questo qua dovrebbe essere giusto che sono strunz sì però l'ho scritto senza guardare mi è uscito in automatico quello dovrebbe essere giusto questo qua poi chiediamo conferma mai come dovrebbe essere questo giusto oioz abbiamo 14g che non lo so qual è perché lo dovevo andare a cercare vai là è qua quello con i pini che non sono pini kiru mo no saru mo cara saru kikarao ciru la scimmia è caduta dall'albero il modo di dire è fantastico la scimmia è caduta dall'albero allora saru 14 saru saru mo anche la scimmia cade dall'albero kikarao ciru saru mo kikarao ciru arrivo anche arrivo un attimo la scimmia cade dall'albero arrivo arrivo un secondo bene che ci stanna di un po' ciao lì no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, anche chi è bravo... No, no, se no non tornavo. Anche chi è bravo sbaglia. C'è più senso questo qua che è la scimmia che cade dall'alba. Quello è letteralmente così, ma sarebbe anche chi è bravo sbaglia. Allora, Tensai, Pianisto, Tensai e Geno, Pianisto è pianista, detto in modo orribile. Tensai, Pianisto, Demo, anche il più bravo pianista Demo. Machigai 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 te I Iku Potoga No questo è Kanji, cioè nel senso la pronuncia è quella Ma il kanji è diverso, questo qua Iku è questo qua, quello di suonare Dove cacchio è? Iku Potoga Arundate, sai che anche più bravo pianista Anche il genio Anche il più bravo pianista Sbaglia, vabbè Grazie al kanji Sarumo Sarumo Chi è il karat Ociru Ma che belle emoticon Uè Seba, sono le tue? Allora le posso usare anch'io A parte che non potresti usare Quelle lì, tu l'ha già detto, che non si fanno ste cose Sarumoki, kara, ochiru Sono modificate O è Ok, se sono modificate va bene Saru, kara, ochiru To To Iu Wakedan To Iu Wakedan To Iu Wakedan Significa che anche le scimmie cadono dagli alberi Questa è una cosa importante Seba, senti qua Sarumoki, kara, ochiru Anche le scimmie cadono dagli alberi Sebastiano 90 Ma quelle modificate perché me le cancella È un detto Eh sì, sono tutti i modi di dire Sto facendo i modi di dire Questa qua E sono tutti i modi di dire Questa è interessante sta lezione Io molte cose Molte non le sapevo Cioè nel senso non le ho mai usate Sarumo Kikara, ochiru Anche le scimmie cadono dagli alberi Che significa che anche quelli bravi sbagliano Poi abbiamo 15 Facciamo questi qua 15 e 16 Le ho modificate nel senso che le ho modificate con Photoshop Con Fotopop Sono quelle del mio canale Con Fotopop Bravo 15 Letter o Aru Che cazzo significa? Letter o Aru Appendere la lettera? Boh, non lo so Letter o Questo non l'ho mai sentito Letter o Aru Ci vediamo stasera Eh sì, ma devi studiare Se no ti picchio Letter o Aru Che significa Icci 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 Ote Kini Ioka O Kimeru Tanto prendo botte anche se studio No, non è vero Se studi non prendi le botte Quindi studiare Ritorno a lavorare Adopo Adopos Eh Cosa significa? Oh mio Dio Non so cosa significa Questo qua Etichettare 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 Aru Vabbè Aru è quello di appendere Etichettare Vediamo Allora Ic Questo non lo so Iciman Icicata Icicho Come si legge questo? Non lo so Ho un'amnesia Icicho 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 Non mi esce il kanji I Itechi Come cazzo si scrive? Non lo so più leggere Boh Ic Vabbè scrivo così Però scrivo normale Scusate Alla fine ho sempre le amnesie Però vabbè Poi lo cerco Boh È questo il kanji Ma non riuscivo a scriverlo Vediamo come si pronuncia Perché sono scemo Sei un pirlan Verso il finale Perdo sempre i colpi Ipotechi Unilaterale Arbitrariamente Da una parte sola Ipotechi Questo non me lo ricordavo Ve lo segno Continuo a scrivere Iho Invece è irregolare Perché questo Si legge Ippo Sono stronzo Ma prima lo scrivo Che sono stronzo Ipotechini Ioka Ioka O chi me lo Decidere Non è decidere un voto Valutare una persona Arbitrariamente Ma che bel culetto Che c'è qui Come faccio a scrivere Con questo bel culetto Ho il mouse Bravo Ti senti Sei tolto E sono le caramelle Comunque Allora Con un po' di coton Tilo A parte che non si vede niente Sto scrivendo qua Non si vedeva neanche Allora Ipotechi Allora Decidere Valutare Cioè decidere Valutare Etichettare qualcuno Come faccio A scrivere in italiano Cioè lo so in giapponese Quando Valuti uno prima Com'è che si dice Valutare Prima Di Di Conoscere Dovrebbe essere una cosa del genere Non mi viene in italiano Vabbè Preselezione No no Quando Tipo dici Questo qua è uno stronzo Prima di conoscerlo Cioè prima di saper la verità Decidi che Quello è scemo Capito Però non mi viene in italiano Come dirlo Va Comunque Leggiamo tutto qua Che sicuramente Ci ha messo un papiro Qua sotto Ci illuminerà Yamamoto Yamamoto Buccio Buccio o Caccio Questo qua sarà Buccio No Tai No Caccio Questo è Caccio Impressione a prima vista Esatto Bravo Caccio A Caccio Non mi veniva la parola Caccia Caccia Ningen Caccia Ningen Kaesha Ningen Dato Io Letter 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 O Ara I Te Iruga Lui Etichetta Il direttore Yamamoto Ha il vizio Di etichettare Le persone Dell'azienda Jitsua Chigau 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 To Chigau Yo In modo sbagliato Jitsua Chigau No Perché non mi ha scritto Chigau 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 Non mi ha scritto Chigau Ma non scrive Chigau Jijitsu Ah si Il Jijitsu Che scemo Chigau Chigau Diverso Dalla Verità Etichetta Le persone Diversamente Dalla Realtà Shumi 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 Mo Yutaka Yutaka Yutakadashi Chigau 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 Mamma mia Tutte le parole Chigau Ni Wa Katei Savis Savis Mo Yoku Che cazzo significa Mo Yoku Tsururashi Che cazzo significa Allora Leggo così Mi aiutate anche voi Perché non ho capito Un cazzo Allora Il direttore Yamamoto Etichetta Le persone Dell'azienda Ma In realtà Ma in realtà È diverso La verità È diversa Shumi Shumi Mo Yutaka 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 Ha anche Tanti È molto Ricco Di hobby E Fa anche Tanti E Quando è di riposo Fa anche Tanti servizietti Alla famiglia No È Però Dice Che Quando è lavoro Praticamente Etichetta Le persone Però Alla fine È bravo È buono Non ho capito Tutta sta Pappardella Di roba Che cosa serve Perché la frase Bastava Fino qua Ara Qua c'è Una parte Che manca Ara Rete Iro Ara Rete Iro Ga Boh Non so Non ho capito Perché mi ha messo Tutto il frasone Qua sotto Non c'entro Un cazzo Bastava Fino qua Come Come esempio Vabbè Comunque Lui etichetta Le persone Però fuori È bravo È buono E vuole bene A tutti Vabbè Poi Messo Infilare Il coltello E questo qua È proprio Messo Ero 16 È l'ultimo Perché poi Se no andiamo troppo Cioè troppo avanti Boh Non lo so Così Se no Dovano Non ho niente da fare Più che altro Messo Ero Infilare Infilare Il bisturi Sarebbe Messo Il nostro Infilare Il nostro Il coltello Warui Bubun O Compotecini Sì Infilare Questo qua Infilare Il coltello Il coltello È il bisturi Mi metto È il nostro Infilare Il coltello Nella piaga Ecco la roba lì C'è la spiegazione La scrivo giusto Per sport Perché Dai Mettimi L'altra parentesi Grazie Il posto cattivo Warui Bubun Più che altro Mi serve per fare Esercitarmi Bubun Per i kanji Perché qua Non c'è scritto Niente In furigana E quindi Mi alleno meglio Così mi accorgo Anche dire Compotecini Me l'ha scritto Lui Perché non lo sapevo Questo qua Non lo sapevo Compotecini Che vado a cercare Compotecini Questo l'ho sentito Ma non mi ricordo Lo signico Compotecini Puri 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 Saku Puri Puri Non me lo ricordo No Tori Tori Saku No Tori Tori Saku No No Però Non è Tori Saku 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 Oh Non me ne è questo Tori Haku No Non me lo ricordo Ecco Avevo appena detto Mi alleno Infatti Non capisco più il kanji Fino a Tori Ci siamo Adesso lo vado a cercare Qua Vediamo se lo trovo Se no Ci divertiamo A usare Il fantastico Dizionario Di tanti anni fa Vediamo se lo trovo Abbiamo Tori Iki No Toreru Tori Kaeru Tori Agheru Tori Kesu Tori Dasu Tori Reru Tori Tori Azu Tori Gimani Tori Modosu Tori Nozoku Tori Nozoku Tori Nozoku Tori Nozoku Questo me lo segno Tori Nozoku Tami 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 Omoikita Hoho Otoru Omoikita Ma non capisco il significato Omoikita Otoru Allora, Warububu no, Kompon Technique, questo qua me lo devo segnare, anche l'altro, Kompon copia, vediamo che Fava è Kompon Technique, l'ho già sentito ma non mi sovviene in questo momento, se questa parola si, fondamentalmente, Torino Zoko Talese, ah per aggiustare una parte brutta, non è infilare la piega nel coltello, cioè prendere una decisione per mettere a posto le cose sarebbe, ok, ero convinto che era infilare la piega nel coltello, invece no, comunque infilare il bisturi, che significa che metti a posto le cose, prendi una decisione per mettere a posto le cose, vediamo, Seifu, no, Seifu, si, Seifu che è il governo, Seigu, Seifu, no, questo non lo so, Ko, questo non lo so, Ko, quello di Toshokan, Kokan, mamma mia se sono avanti, Ga, questa non la sapevo, Kanke, Kanke, Su, Ru, Schiandaru, Su, Kian, Schiandaru, a parte che dovrebbe mettere degli esempi un po' più facili da capire, su, Schiandaru, anche perché se metti gli esempi difficili, ma perché non mi esce su, Schiandaru, su, Schiandaru, oh grazie ce l'ho fatto, Schiandaruni, messu, wo, irerareru, cotoninatte, è questo non lo so, Seito, non è Seito, qua anche lo devo cercare, è quello di Sekai, Seito, questo non lo so, questo non lo devo cercare, questo aspetta, lo lascio a parte, qua, Sozen, non lo so neanche il libro di Sekai, lo devo sapere, ho mai sentito, Sozen, 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 Sozen tostero, allora devo cercare con la parola lì, allora qua è praticamente, a parte che questo non lo so, c'è lo scandalo che il governo ha a che fare con, Vado a caffettare, vai a caffettare, vadi pure, alti ufficiali del governo, qualcosa, allora c'è uno scandalo che abbia a che fare con, gli alti ufficiali del governo, che cazzo sono gli alti ufficiali del governo, boh, comunque l'ho letto ma non sapevo il significato, messo, eh, questo devo cercare questo qua, questa parola che non so, che è Seiji, sarà Seijika? No, non è Seiji, è quello di Seifu, però è un'altra parola, allora, facciamo così, vediamo che parole escono, Seiji non è, Seifu non è, Seito non è, che erano le uniche tre parole che sapevo, Seikai, Seikai, politici, mondo politico, circolo politico, Seikai, questo non lo sapevo, Seikai, Seikai, bello, questo è Seikai di corretto, invece è Seikai, ma non è, è questo qua, ok, Seikai, bello, di fare rumore, creare confusione, confusione, ok, Sosen, allora, ha creato confusione nel mondo politico, quindi, messo Iraleru, Cotonina, allora, non ho capito, non ho capito lo stesso significato, ho messo Iraleru, ok, allora, nel mondo, allora, lo scandalo che aveva a che fare con gli altri politici del governo, ci hanno messo mano per metterlo a posto e hanno creato confusione nel mondo politico, ho un significato di merda, però, rimaniamo qua così, metto il segno a questo qui, che lo faccio l'altra volta, che è il 17, Badon o Nagasu, Shigoto, Taiji, no, Okano, Itoni, Ikizugu, è Nagasu questa cosa, no, o Eutosu, non Eutosu, è quello di Do, è questo qua, Modosu, no, non mi ricordo più come si pronuncia, qua lo cerco, il Kanji, lo conosco, ma non mi ricordo come si pronuncia, come è vero, Dosu, ah, è Do e basta, Dosu, mai sentito? Salvare, io lo sapevo questo qua, ah no, però è diverso, vabbè, dopo lo cercheremo nella prossima puntata, comunque non era così, era diverso, Tosu, adesso mi è venuto il pallino, finché non lo trovo divento pazzo, Tosu, Tosu, non E, No, Nagasu, a me sembrava Nagasu, ma non lo trovo, dopo lo cerco, niente, finisco di scrivere, se non finisco più, allora, scriviamo questi 5 qua, e poi ci si saluta Azzan, 12, che non so perché non è rosso, era Sujigai, Sainogaro, togliamo tutta sta roba, intanto il libro non serve, allora, 12, Sujigai, vediamo se sono dritto, a parte che l'ho spostato tutto, non si capisce più niente, Sujigai, sono dritto per modo di dire, Sujigai, essere portato, può essere valutato, avere, può essere valutato bene, l'altro essere portato, Sujigai, 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 me lo scrivo da qualche parte, Sujigai, e Sainogaro, essere portato, essere, Sainogaro, Asshigigai, 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 Akiyo, no, Kyowa Ureshikata, oggi ero confondendo, Kyowa Ureshikata, Aitakata, 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 Yeah, Kyowa Ureshikata, datte sai perché? datte suji che avevamo detto che suji scusate suji che come mai che era no sense calligrafia calligrafia no sense maestro di di calligrafia mi ha detto che sono bravo mi ha detto che sono portato omerare chattano e mi ha praticamente omerare rue che si dice omerare chattano mi ha fatto i complimenti ce l'ho fatta a dirlo allora poi abbiamo age ashi o toro 13 age ashi o toro è uno che fa vedere gli errori degli altri quando parlano age ashi ho sbagliato a scrivere ashi lol age ashi o toro o che fa notare gli errori oltre dipende far notare errori far notare errori allora ito no i macigai i questo è i macigai però scritto così fa schifo i è quello di iu le cose dette sbagliate dalle persone o gesani iu fa notare le cose sbagliate degli altri ito no i macigai le cose dette sbagliate macigai qua non c'erano i canji li ho messi giusto io per sport macigai o o gesa o gesa ni iu poi ho caigi e de kotoba caigi caigi e riunione caigi e riunione caigi e de kotoba kotoba e parola kotoba no macigai ma o tori o tori tori agete tori agete ito no ito no 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 agete ashi ito no Allora, Bakari, Iruito, scusate, sono impazzito un secondo, va, Kirawarero, le persone che durante la riunione correggono, fanno notare gli errori degli altri, o correggono gli altri, vengono odiate, Kirawarero, 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 Poi, Saru, Quattordici, Saru, che è la scimmia, Saru, Saru, Mo, Kikara, Uccidò, anche le scimmie cadono dagli alberi, Karà, Uccidò. Allora, Saru, lo scrive, poi, Josu, Josu, Naito, Mo, Shippaisuru, Josu, Josu, Naito, Mo, Shippaisuru, Anche le persone brave sbagliano. Shippaisuru Tensai, pianista, demo, tensai e genio, come me, non è vero, tensai, pianista, pianista, demo, anche i pianisti, anche i pianisti geniali, o i geni pianisti, come volete voi. Machigaete, sbagliano a suonare, Machigaete, Iku, Iku, Koto, Garu, sbagliano anche loro a suonare, Garu. Lo sai che anche i più bravi pianisti sbagliano a suonare, sì, e gli altri rispondono, sì, si dice che anche le scimmie cadono dagli alberi. Saru, Mo, Kikara, Uccidò, Iu, Wakedane. Significa che anche le scimmie cadono dagli alberi. E' come un, che si chiama, com'è che ne diciamo noi, è quello che è una cosa ovvia, tipo, però non mi viene in mente come lo diciamo in italiano. Anche, cos'è che diciamo noi? Non mi ricordo, mi sembra che c'era qualcosa con le vacche, ma non mi sonviene. Anche le mucche non volano. In che contesto? Loro dicono, anche le scimmie cadono dagli alberi. Noi diciamo, tipo, anche, non lo so, le mucche non volano, per dire una cosa ovvia. Però non mi viene il nostro detto in italiano. C'era un qualcosa del genere, ma non mi viene in mente. Letteru, letteru o aru, etichettare. Questo qua è ipotechini yoka o chimero, decidere a priori. Questo, ok, decidere a priori. Mettiamo decidere a priori, che ci vuole decidere. A priori, ok. C'è una virgola, non è un... Ok, allora, etichettare. Letteru, letteru po aru. Mi ricordo questo succederà il giorno in cui gli asini volano. Esatto, gli asini che volano, esattamente. Quella roba lì, infatti dicevo le mucche, ma non mi veniva in mente. Gli asini che volano, esatto. Quindi sarebbe la stessa cosa. Ipotechini, loro però dicono anche le scimmie cadono dagli alberi. Ipotechini yoka o chimero. C'è anche uno spamming sulle mucche volanti, ma non trovo un vero detto è più una presa in giro. No, no, ho detto mucca perché non mi veniva in mente quello dell'asino. Comunque quello dell'asino era quello che volevo dire. Yamamoto, Kai, Caccio, Yamamoto, Caccio. Caccio! Che non ho mai capito se il direttore è uno, il capo è questo, il capo è l'altro, Caccio, Sciaccio. Me l'hanno già scritto mille volte come si... la differenza, però avete uguale. Caccio. Caccio. Caccio è azionda. Chi è che ha detto azionda? Buccio, buccio, c'è anche buccio di culo. Caccio, Ningen, Ningen da... Kai Shaningen da... Ah, viene etichettato come uomo dell'azienda. Adesso ci sono. Non è che quelli lo etichettano, io l'avevo tradotto come loro lo etichettano, ma lui viene etichettato dagli altri come se fosse l'uomo dell'azienda che di solito si dice Kai Shano Inu però vabbè per quello qua è un uomo dell'azienda quindi mi ha confuso Arare Teiru ma e poi dice ma in verità è diverso ha tanti aiuti alla famiglia e ha tanti hobby ma chi se ne frega vabbè comunque lo scriviamo perché è sport Jijitsuni in verità Jijitsu Jijitsua Chigao Yoda ma in realtà è diverso infatti lo giudicano come l'uomo dell'azienda ma in verità lui è una persona completamente diversa però se gli dicono di licenziarti lo farà molto volentieri Chigao Chigao Yoda ma la verità sembra diversa comunque ho visto il messaggio però ho fatto grazie anche se al momento dobbiamo ancora decidere se rimarrò qua o vado in Giappone quindi al momento sono in fase di stand by cioè non è che non sto proprio cercando poi cercherò quando decido cosa fare mi cercherò al momento sono io fermo proprio comunque grazie grazie per il benziero allora Yutaka Dashi questo qua è Kyu Jitsu che qui non sbagliavo sempre in che sono qua posso sponsorizzarti e ho scoperto che ha un valore no ma nel senso ho trovato cioè nel senso trovo viva la raccomandazione Nipan viva la raccomandazione Nipan cioè no te lo dirò quando 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 cerco te lo dico cioè quando Mako ha deciso te lo dico cioè il mio problema è se devo stare qui o devo stare lì infatti stavo cercando qualcosa nelle traduzioni in modo tale che che lo faccia in Giappone o che lo faccia in Italia è uguale però vediamo vediamo cosa succederà guarda come c'ha il bastone lungo allora Sarvis mo Yoku Sururashi allora Shumi mo Yutakadashi Kyu Jitsu wa Kate Sarvis mo Yoku Sururashi nel senso che veramente è merito per la serie se presenti una persona non valida Katsun quello sicuramente quello sicuramente allora sedici messo ireru infilare il bisturi messo o ireru che significa mettere a posto le cose ero convinto che era girare il coltello nella piaga invece al contrario questo qua con Pontechi me lo devo segnare con Pontechi con Pontechi ni Tori questo qua avevamo Sosogu questo non l'avevo letto per mettere a posto le cose prendere una decisione per mettere a posto le cose allora messo ireru mettere a posto a posto ok warui bubu questa è l'esplicazione la prima frase giapponese è la spiegazione che trovate warui bubu la parte brutta la parte cattiva bubu o Kompon Tekini Kompon Tekini Tekini Tori 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 non me lo ricordo più Tori Sosogu non me lo ricordo più aspetta cos'era Sosogu Sosogu no Tori l'ho scritto prima Sosogu 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 non me lo ricordo più oh ma son fesso l'ho scritto un minuto fa ehm non ce l'ho più 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 vale non li scrivo vediamo Tori con io otomo torino zoku ammo me lo scrivo torino zoku per mettere a posto no zoku no zoku è anche spiega no zoku ok e con un ponte con un ponte che in età me ni omo e chitta ojo omo e chitta ojo toro ojo o toro qua devo mettere un esempio un po più facile di sta roba qua trova seifu no kokan gli alti ufficiali del governo seifu no kokan kokan ga kanke e rapporto kanke avere relazione con kanke kanke suru schiandaru su chiandaru su i chiandaru chiandani messo i re re kotonina te hanno deciso di metterci mano no c'è di mettere sì metterci mano mentre mi hanno messo uo i re i re ra re ru kotonina te kotonina te queste due parole mi devo segnare seikai che è mondo politico seikai che è uguale a seikai mondo ma è proprio mondo politico seikai seikai non sapevo seifu seijika ma seikai non lo sapevo va sozen questo qua è no ho chiuso il libro ma forse c'è il segno sozen si crea confusione sozen è quello lì di rumoroso quel primo kanji e l'altro è quello di totsu zen sozen insieme non sapevo che era confusione 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 crea confusione nel mondo politico to stelo allora ci hanno messo mano e creando confusione nel mondo politico bene alura sei su toto orto sono su toto orto ma ormai ho finito quindi grazie per avermi detto comunque stavo solo scrivendo e niente domani continuiamo sta roba qua così finisco tutti i modi di dire e poi ripasso un po' di kanji non me li ricordo poi devo ripassare anche un po' di grammatica perché ho visto che facendo gli esercizi ogni tanto mi confondo perché ho sempre il brutto vizio di usare il mio giapponese non quello che usano tutta la gente a che ora cosa? domani faccio sempre lo stesso orario sempre uguale 9 e mezza più o meno stasera ah no stasera alle 20 e quattro cioè alle 9 iniziamo ma dalle 8 meno 10 ci sono se avete domande fatemele pure fatemele pure ci vediamo se suare grazie per avermi ricordato che è mercoledì perché se no non è che ho messo la sveglia perché non mi ricordo mai quando è mercoledì addios perfetto grazie come sempre Alex grazie a voi e buona giornata a stasera a stasera a stasera